Sono oltre un migliaio per i 50 posti da Consigliere regionale i candidati che si presentano in rappresentanza di 27 liste per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Elezioni in programma il 20 e 21 settembre. I seggi saranno così distribuiti, 27 a Napoli, 9 a Salerno, 8 a Caserta, 4 ad Avellino e 2 a Benevento, 15 le liste a sostegno del Presidente uscente Vincenzo De Luca, tra queste Campania Libera di cui è capolista Erminia Mazzoni. Io credo che un buon progetto di amministrazione per la regione Campania non possa prescindere da quella che tradizionalmente viene definita la questione meridionale. Non è accettabile che i livelli essenziali delle prestazioni per la scuola, comparto per me fondamentale, soprattutto oggi nella fase post-Covid, un cittadino, un bambino, un ragazzo campano riceva 300 euro, mentre un bambino, un ragazzo del nord, della Lombardia, riceva oltre 1000 euro per i servizi complementari della scuola. Sette le liste a sostegno del candidato di centrodestra, Stefano Caldoro, tra queste Fratelli d'Italia, nella quale milta Gabriella Peluso. Non si può affrontare il tema del sud esclusivamente in campagna elettorale o lanciando dei meri spot per opere che poi puntualmente non vengono mai realizzate. La questione dello sviluppo del mezzogiorno deve diventare prioritaria. Il Movimento 5 Stelle esprime la consigliera Valeria Cerambino nel ruolo di candidato presidente. In lista la consigliera Maria Muscarà. Ci sarà un candidato a ogni condominio probabilmente e sono tanto diversi uno dall'altro nella stessa coalizione. Abbiamo ambientalisti che sono andati a finire nella lista di De Luca e pari pari stanno riportando l'impianto della gestione del rifiuto di De Luca proprio quello che loro stessi avevano condannato per anni.